Crescono i numeri della nuova fase di contagio da covid-19 appaternò 4 nuovi casi per un totale di 10 positivi. E crescono ancora i contagi da covid-19, questo il bollettino dei dati registrati in Sicilia e nell'arresto d'Italia. A Palermo è stato arrestato l'imprenditore paternese Emanuele Caruso. Si tratta di un giro di rifiuti e mazzette coinvolto un alto funzionario della RAP. L'Arsa ha approvato la riforma del settore urbanistico, risultato storico, commenta il governatore Musumeci. Il testo ridisegna i criteri e cancella i PRG. Altro episodio di inciviltà ad Adrano. Un uomo si disfa di rifiuti in contrada fogliuta ma viene immortalato dalle telecamere di abitazioni private. La polizia municipale di Adrano è al lavoro per identificarlo e multarlo. Ad Adrano giunti quasi a conclusione i lavori di restauro della chiesa dell'addolorata. La riapertura ai fedeli prevista per ottobre. Buonasera, ben trovati per questo spazio con le informazioni di Ciac Tele Sud che in apertura dedichiamo alla questione salute e in particolare ai nuovi casi di contagio da Covid-19 che si sono registrati nelle ultime giornate a Paternò. Si tratta di quattro nuovi casi che vanno ad aggiungersi ai sei già registrati nei giorni scorsi. Vediamo. Quattro nuovi positivi alla Covid-19 che vanno ad aggiungersi ai sei registrati nei giorni scorsi in questa seconda fase di contagi a Paternò. Ad annunciarlo su Facebook il sindaco Nino Naso che in un suo post scrive comunico alla cittadinanza paternese che in data odierna i casi positivi al coronavirus sono aumentati a 10, tutti riconducibili ai primi registrati nei giorni scorsi. Nell'augurare ai nostri concittadini una pronta guarigione continua nel posto. Il sindaco raccomando di non abbassare la guardia e rispettare tutte le regole, mascherina in luoghi pubblici e distanziamento sociale in primis. L'emergenza, conclude il sindaco, non è ancora finita. Quattro nuovi positivi dunque contagiati per essere entrati in contatto con i primi positivi di questa seconda ondata di contagi. Dall'Asp di Catania con il commissario per l'emergenza Covid, Pino Liberti, si evidenzia che la notizia di due dei quattro contagiati risale già qualche giorno fa, addirittura ad inizio settimana. Gli ultimi due invece sarebbero emersi in queste ultime ore. Per tre dei quattro contagi nuovi si tratta di uno stesso nucleo familiare con una 72enne, la moglie e il nipote ed una quarta persona di cui non si conoscono i dettagli. Il 72enne è in ospedale, così come restano ancora in ospedale l'ottantenne e l'ottantottenne, i primi contagiati di questa nuova ondata di diffusione del Covid-19. Dall'USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale del distretto di Paternò, intanto hanno già effettuato oltre un centinaio di tamponi, molti di questi sono negativi. Questo non significa che si debba abbassare la guardia, l'emergenza non è scomparsa e dunque bisogna continuare a mantenere alti i livelli di sicurezza. Il rischio che l'epidemia si diffonda a macchia d'olio è concreto e reale. Le precauzioni da prendere non sono difficili, occorre solo buonsenso, l'uso della mascherina, il mantenimento del distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani. Prevenzione deve rimanere la parola d'ordine se non si vuole un nuovo lockdown. E crescono ancora i contagi da Covid-19, questo è il bollettino riferito ad oggi dei contagi in Italia e in Sicilia. Vediamo. Diminuiscono i contagi da coronavirus in Sicilia rispetto a ieri, sono 27 le nuove infezioni, quasi tutti i casi asintomatici, al netto di 2412 tamponi processati oggi nell'isola. 14 dei nuovi casi riguardano i migranti, mentre l'incremento nella provincia di Catania è stato di 6. In Sicilia oggi non ci sono guariti ma nemmeno decessi, gli attuali positivi sono 369, 328 di questi sono in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale sono aumentati di 4 unità e adesso sono 41, 4 invece posti letto in rianimazione. E intanto l'aumento dei casi nell'isola con la Sicilia che registra l'indice di contagio più alto d'Italia non fa dormire sogni tranquilli al governatore Nello Musumeci che oggi ha annunciato di essere pronto a richiudere tutto in caso di aumento dei casi. Il virus intanto è ripresso a girare in tutta la penisola, oggi infatti non ci sono state regioni a contagio zero. I casi sono aumentati in Italia rispetto ieri di 150, oggi infatti sono 552, al netto di oltre 59 mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. Rispetto ieri sono diminuiti i decessi, oggi 3, mentre i guariti sono stati 319. Gli attuali positivi all'infezione aumentano ancora di 230 unità e adesso sono 12.994. La stragrande maggioranza 12.103 in quarantena, 779 più 13 malati ordinari in ospedale di cui 42 stesso numero di ieri in terapia intensiva. Cambiamo argomento, adesso parliamo di cronaca nera. Non sono stato io ad ucciderla quando ho confessato ero sotto l'effetto della droga. Avrebbe ritrattato tutto in appena 24 ore. Damiano Torrente, il pescatore che ieri ha raccontato a cinque anni di distanza l'omicidio della sua amante romena, Ruxandra Vesco, scomparsa nel 2015. L'uomo che ha raccontato il suo avvicinamento a Dio, il pentimento e la sofferenza, confermata anche dal prete che ha raccolto in confessionale il suo racconto, inducendolo a confessare, fa dunque marcia indietro. A riferire il colpo di scena è l'avvocato Alessandro Musso che difende Torrente. E a Palermo è stato arrestato l'imprenditore paternese Emanuele Caruso. Si tratta di un agilo di rifiuti e mazzette coinvolto un alto funzionario della RAF. Ancora un arresto per l'imprenditore paternese Emanuele Caruso. Questa volta l'attività ha riguardato un presunto caso di corruzione con l'attività eseguita dalla DIA di Palermo. Il suo arresto arriva a conclusione di un'attività di indagine coordinata dalla procura antimafia di Palermo diretta dalla procuratore Francesco Lovoi. Con l'imprenditore sono state arrestate altre due persone. Daniela Pisasale, 45 anni, di Siracusa, il direttore tecnico della discarica di Bello Lampo, Vincenzo Bonanno, 62 anni, di Palermo. Per tutti l'accusa è di corruzione aggravata. La discarica di Bello Lampo è gestita dalla RAP, SPA, società partecipata del comune di Palermo, che si occupa della lavorazione dei rifiuti solidi urbani provenienti dai comuni di Palermo e di Ustica. Per quanto riguarda Emanuele Caruso, 53 anni, imprenditore paternese con aziende in diversi settori, principalmente edile e agricolo, da ultimo ha cominciato ad investire anche nel settore dei rifiuti. Il suo nome compare in più inchieste condotte dalle forze dell'ordine già dal 2006. Daniela Pisasale, titolare invece di diverse società operanti nel campo della trattamento e dello smaltimento dei rifiuti e amministratore unico della Eco Ambiente Italia SRL con la sede a Siracusa. Gli investigatori della DIA hanno sorpreso Caruso mentre consegnava a Bonanno una busta con 5.000 euro in contanti. Altri 13.250 euro sono stati trovati nell'auto dell'imprenditore. La somma è stata sequestrata. I tre arresti in flagranza sono inseriti all'interno di un'indagine più ampia sulla quale però gli investigatori mantengono il massimo riservo. Le tre persone sono state portate in carcere in attesa di nuove disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro in cosa consisterebbe il coinvolgimento della Pisasale. La donna fino a maggio dello scorso anno si è occupata del trattamento dei rifiuti proprio all'interno di Bellolampo, di scarica definita dalla Commissione regionale antimafia, simbolo della crisi rifiuti in Sicilia. Poi il Comune di Palermo ha chiesto e ottenuto dagli enti preposti di subentrare con la partecipata RAP alla società privata Ritusea. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito un approvvedimento di sequestro beni per 500 mila euro nei confronti di Giuseppe Corona, 52 anni, detenuto per associazione mafiosa, estorsione aggravata, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e associazione a delinquere finalizzata alla traffico di droga. Il provvedimento è della GIP, del Tribunale di Palermo. Restiamo a Palermo, adesso cambiamo decisamente argomento. L'Arsa ha approvato la riforma del settore urbanistico. Risultato storico, come commenta il governatore dell'isola Nello Musumeci. Il testo ridisegna i criteri e cancella i piani regolatori generali. Vediamo. Una svolta storica nel settore dell'urbanistica in Sicilia. Dopo 42 anni l'Assemblea regionale siciliana ha approvato una legge che regolamenta la materia urbanistica. 45 i voti a favore, 9 i contrari, con il testo che mira a semplificare le procedure abolendo i vecchi piani regolatori generali. Una normativa tanto attesa, commenta il presidente della regione Nello Musumeci, che dà protagonismo agli antilocali chiamati adesso a una stagione di rigenerazione urbana nel rispetto assoluto dell'ambiente. Era questa legge di riforma uno degli obiettivi del mio governo e lo abbiamo realizzato con una responsabile partecipazione dell'ARS. Mi si lascia ringraziare anche l'assessore al territorio, Totò Cordaro, e la presidente della Commissione Ambiente, Giusy Savarino, ha concluso il governatore dell'isola per l'ottimo lavoro svolto. Il testo di riforma mira, come detto, a ridisegnare e semplificare i criteri e le procedure di governo del territorio siciliano. Tra i principi ispiratori e gli obiettivi del DDL, composto da 55 articoli, ci sono il consumo del suolo tendente a zero e la rigenerazione urbana, ovvero il recupero e il riutilizzo dell'edilizia esistente nell'ottica di una politica di qualità del paesaggio e dell'ambiente. La riforma prevede anche l'introduzione del PTR, il Piano Territoriale Regionale, con valenza paesaggistica. Uno strumento strategico che definisce le finalità generali, gli indirizzi e le scelte in materia di governo del territorio su scala regionale e che sovrintende alla pianificazione degli enti locali. Al posto del vecchio PRG arriva il PUG, il Piano Urbano Generale, prevista l'introduzione del certificato verde, la rivalutazione del tessuto agricolo e l'introduzione dei principi di perequazione e compensazione. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a dopo. Enercreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiave in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto, scegli Ener Green Power. In questo periodo da Ener Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kilowatt 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kilowatt più 5 kilowatt ora di accumulo sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Ener Green Power. Contrada Tre Fontane. Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientriamo in studio e parliamo di ambiente. Altro episodio di inciviltà ad Adrano. Un uomo si disfa di rifiuti in Contrada Fogliuta ma viene immortalato dalle telecamere di abitazioni private. La Polizia Municipale di Adrano è al lavoro per identificarlo e multarlo. Ancora una volta l'ennesima vi raccontiamo di un gesto di assoluta e inqualificabile inciviltà che va a deturpare l'ambiente della città. Guardate queste immagini che ci sono state fornite dalla Polizia Municipale di Adrano. Un uomo a bordo della sua autovettura giunge in Contrada Fogliuta in prossimità del passaggio a livello ad Adrano. Si ferma, apre il cofano posteriore del mezzo, inizia a scaricare rifiuti a destra e a sinistra creando dunque delle microdiscariche. Immagini queste che sono state registrate da telecamere di videosorveglianza di abitazioni private che hanno immortalato tutta la scena. Inutile dire che comportamenti del genere sono un inno all'inciviltà e che prima o poi vengono beccati anche da telecamere di abitazioni private che dunque hanno sempre più una funzione da deterrente importante. Ancora una volta ci preme ribadirlo che in funzione l'isola ecologica in Contrada Mulini sotto il cimitero di Adrano ed è lì il luogo idoneo per disfarsi dei rifiuti. Ovviamente lo sporcaccione di turno rischia una sanzione. La Polizia Municipale di Adrano infatti nel fornirci le immagini ci ha comunicato che ha lavoro per identificare lo sporcaccione e multarlo perché i gesti del genere sono intollerabili per la salvaguardia dell'ambiente. Una cucciola di pastore belga di tre mesi, Frozen, è stata recentemente assegnata alla stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi ed è destinata a rinforzare in un prossimo futuro la squadra cinofili specializzata in ricerca e soccorso in servizio nel reparto del corpo alle pendici dell'Etna, selezionata per le sue caratteristiche caratteriali e morfologiche nel centro di allevamento e addestramento di Castiglione del Lago a Perugia. E ad Adrano sono giunti quasi a conclusione i lavori di restauro della Chiesa della Dolorata, la riapertura ai fedeli prevista per ottobre. Continuano i lavori di restauro al Santissimo Crocifisso, la Chiesa della Dolorata ad Adrano. Gli interventi che si erano arenati nella fase del lockdown sono ripresi regolarmente e si avviano verso la conclusione. La riapertura dell'edificio religioso al culto dei fedeli è prevista per il prossimo 25 ottobre, come conferma ai nostri microfoni Don Giuseppe Calambrogio. Possiamo essere soddisfatti, anzitutto, del finanziamento che c'è stato, poi anche della ditta veramente molto esperta nella realizzazione dell'opera, per cui vengono tolte tutte le fragilità dell'edificio. Si riscava un crollo di questa Chiesa. Invece adesso la Chiesa è consolidata, tutti i tetti sono rifatti, è eliminata tutta l'umidità ascendente, per cui ci troviamo di fronte a un edificio costruito come se fosse oggi, secondo le esigenze tipiche della cultura edilizia del nostro presente. La data dell'inaugurazione è il 25 ottobre, la scelta il nostro arcivesco, Sua Eccellenza Monsignore Salvatore Cristina, il quale proprio ieri, 6 di agosto, ha fatto l'onomastico. Spero di avere partecipi anche tutte quelle persone che hanno reso possibile il finanziamento. E parlo dell'autorità della nostra amministrazione regionale, per cui l'inaugurazione della Chiesa diventerà, come io spero, non solo un fatto rilevante dal punto di vista religioso, perché è una cosa molto bella restaurare una Chiesa, ma anche, diciamo, da un punto di vista civile, perché i fedeli che frequentano una Chiesa sono aiutati a diventare migliori, cioè ad essere i cittadini più onesti, più corretti. E quindi assicurare l'attività religiosa comporta anche un miglioramento della società. Ecco perché a me pare che questa giornata del 25 ottobre debba poter significare un momento di intesa operativa tra la struttura religiosa e la società civile. Con questo servizio si chiude questo spazio con l'informazione. Io vi auguro una buona serata.